Buonasera amici di Nova News 24. Dopo settimane di rumore e mezze conferme, oggi Raimondo Todaro è stato ospite di Silvia Toffanina Verissimo ed ha annunciato il suo addio ad Amici di Maria. Il maestro di ballo ha dichiarato che dopo tre anni, da settembre non sarà più dietro al bancone dei professori. Raimondo non ha voluto dare spiegazioni in merito a questa scelta, ma ha ringraziato Maria De Filippi e la sua squadra punto Raimondo Todaro sul suo addio ad Amici. Se sarò uno degli insegnanti della nuova edizione di Amici? Purtroppo no, io non ci sarò questa volta. Ha dichiarato Todaro a Verissimo, me l'hanno chiesto tutti questa estate. Ho trascorso anni bellissimo e sono cresciuto tanto dal punto di vista umano e professionale. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il top. Sono stato veramente tanto fortunato e non l'ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Ne approfitto per salutare tutti. Lì c'è una squadra fantastica da Maria in giù. E niente noi faremo il tifo da casa e li seguiremo. Stando agli ultimi, rumor Todaro avrebbe deciso di sua spontanea volontà di lasciare il programma di Canale 5. Secondo queste voci Maria De Filippi avrebbe anche provato a convincere il prof a restare nella scuola, ma alla fine lui ha confermato la sua decisione. Dietro a questa scelta pare ci siano motivazioni personali e impegni del noto ballerino. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Grazie a tutti.